Salome a tutti e bentrovati. Oggi, a Dio piacendo, come si suol dire, finiremo comunque lo studio sulla fede. Però, prima di tutte le cose, desidero veramente pregare il Signore per questa parola. Padre, grazie per questa parola che Tu ci dai di condividere insieme e fa che questo sia uno strumento per rafforzare la nostra fede e la nostra fiducia in Te. Grazie per come Tu sei sempre con noi. Non ci lasci, non ci abbandoni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, l'altra volta ci siamo lasciati con Proverbi 29 e 25, quando questo versetto dice che la parola dell'uomo costituisce un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. La paura, abbiamo detto la volta scorsa, è un ospito che indebolisce la nostra fede oppure può creare dentro di noi o nella nostra idea di credere una fede morta, cioè non viva, non attiva. Esempio, la nostra fede morta è una fede a senso unico che ci porta nelle difficoltà di invocare Dio, ma senza credergli, senza dargli la nostra fiducia. purtroppo spesso nel nostro avere fede nel Signore Gesù c'è molta ragione umana e molta paura che scaturisce da vari fattori che influenzano il nostro cuore attraverso la nostra mente e la nostra anima. Quando siamo sotto queste paure, siamo sotto la schiavitù di queste paure. Quando noi abbiamo paura, siamo veramente schiavi di quella paura che abbiamo. Ecco perché non dobbiamo temere lo spavento, ecco perché non dobbiamo temere gli eventi che si stanno manifestando e che si manifesteranno, sempre più in modalità tangibile. Non dobbiamo avere paura, ma bensì dobbiamo prendere la nostra fede e allenarlo fino ad arrivare a una totale fiducia in Dio, in Gesù e nello Spirito Santo. Quindi quando siamo sotto queste paure, siamo sotto la schiavitù di queste stesse paure e questo non ci consente di muoverci con convinzione di cuore nella vera fede di Dio Padre. Affermare con convinzione significa avere capacità di azione, quindi affermare con fede e con convinzione significa avere capacità di azione. Quindi quando abbiamo sviluppato quella vera fede, quella potenza di fede che smuove le montagne, allora avremo una capacità di azione forte in Cristo Gesù. Amen. Questa capacità è credere fermamente e quando crediamo fermamente possiamo tutto. Leggiamo Marco 9,23 sta scritto e Gesù gli disse se tu puoi credere ogni cosa è possibile a chi crede. La fede va a pari passo a braccetto con la fede. La fede va a braccetto con il credere. Se tu puoi, se tu puoi, senti le parole come suonano le parole uscite da Gesù, se tu puoi, quindi è la tua volontà, se tu puoi credere ogni cosa è possibile a chi crede. Se tu decidi di credere totalmente a Dio, tu ogni cosa è possibile a chi crede. Con la vera fede di Dio Padre nel nostro cuore, nel nostro vivere vuol dire credere a tal punto che ogni cosa è possibile a chi crede e a chi ha vera fede. Non dobbiamo avere paura dei tempi in cui stiamo vivendo, non dobbiamo essere oppressi dagli eventi negativi che si stanno muovendo intorno alla nostra vita. Avere vera fede di Dio Padre nella nostra vita significa vivere in pace nonostante la tempesta che si scatena intorno a te. Bellissimo. Gesù in tutto il tempo del suo ministero su questa terra ha vissuto per fede e con grande pace, infatti ha vissuto con grande pace nonostante l'incredulità della gente, il sinedrio che lo controllava e lo perseguitava, la religiosità, l'incomprensione, la rabbia, il sistema governativo di quel tempo. Gesù attraverso la sua vera fede e il suo vivere per fede è rimasto in pace nonostante tutte le avversità. Dobbiamo seguire il suo esempio? Quindi in tutte le nostre avversità, in qualsiasi condizione noi siamo, siamo chiamati a vivere per fede e avere la pace di Dio nel nostro cuore. che qualsiasi cosa avvenga, che qualsiasi cosa ci accada, Dio è con noi e a cura di noi. Amen. Questa fede è una fede che non ti fa dormire su sette cuscini la notte, questa fede è quella fede che ti fa veramente rilassare e non agitare e non avere paura. Il Signore Gesù ha vissuto con grande fede nel Padre Celeste e grande pace nonostante tutto ciò che lo circondava. L'atteggiamento di vera fede del Signore Gesù è la stessa fede che oggi in questa stagione difficile noi dovremmo avere per essere forti e non travolti dagli eventi di questo mondo che sta andando sempre di più in una direzione non bella, non bella perché ce l'ha predetto Gesù. Teniamo i nostri cuori e i nostri occhi su Gesù che è il compitore e autore della nostra fede. Leggiamo Ebrei 12,2, prima parte, dice e tenendo gli occhi su Gesù autore e compitore della nostra fede. Quale straordinaria promessa Gesù ci ha fatto? Dobbiamo solo credere, dobbiamo solo tenere gli occhi su Gesù e allora lui diventerà il nostro autore, il nostro compitore della nostra fede, cioè colui che porta a compimento nella nostra vita tutte le cose. È inutile in questo tempo smarrirci, è inutile andare dietro a tutto quello che ci dicono i social o tutto quello che sentiamo dire intorno, ma è Gesù il compitore di tutte le cose, è Gesù che ti guida, sono i Suoi veri ministri che ti guidano, coloro che hanno veramente una direzione da parte di Dio. Allora il tuo cammino sarà certo anche in una valle di lacrime. Allora la luce di Dio sarà su di te, sui passi che tu dovrai fare in questo tempo e nei tempi che vengono. Non possiamo più condurci senza la vera fede. La vera fede di Dio ha una potenza inaudita. La potenza della vera fede di Dio è colei che è benzina per la nostra vita, è benzina, è potenza, è forza, è cambiamento. Ci saranno stagioni dove il Signore ci dirà di lasciare, ci chiederà di lasciare tutto e andare via e noi dobbiamo avere quella vera fede, quella potenza di fede che ci consentirà di lasciare tutto quello che abbiamo per andare via. Quando il Signore ce lo chiederà, noi dovremmo essere pronti a farlo. Qualsiasi cosa Dio ci chieda, con la vera fede, noi possiamo farla. Perché tutto è possibile a chi crede. Tutto è possibile a chi crede. Ma quando il nostro credere è credere nei carri e nei buoi, siamo come foglie sbattute dal vento, un po' di qua, un po' di là. Ma non abbiamo la direzione chiara, netta di quello che dobbiamo fare. Cercate i veri ministeri, cercate veri servi di Dio che vi possono dare spiegazioni, che vi possono aiutare a vedere la direzione in cui la vostra vita può andare, deve andare. Non state lì chiusi in voi stessi senza cercare le risposte di Dio. Il discernimento, come sta scritto, va scavato, va cercato. La fede va messa in azione. Cercate i ministeri che vi possono aiutare in questo tempo di desolazione e di sconforto. non vi limitate a vivere ogni giorno così. Cercate la direzione di Dio perché Dio ha uno scopo per la vostra vita. Dio ha un proponimento per la vostra vita. Cercate la faccia di Dio con tutto il vostro cuore. Cercate le sue direzioni, cercate la sua guida e allora vivrete, allora prospererete nella potenza della vera fede in Gesù Cristo, il Signore. E con questo vi benedico, vi abbraccio e siate consolati nel vostro spirito perché Gesù e Dio e lo Spirito Santo non lasciano, non abbandonano nessuno. Il popolo di Dio ha bisogno di tornare a Dio. Con questo vi benedico, vi saluto, shalom e a presto. Alla prossima. Grazie.